Ciao a tutti, sono Grizzly. Innanzi-tutto, come cittadino italiano e come volontario di Protezione Civile, ci tenevo a esprimere tutta la mia solidarietà e vicinanza ai familiari delle vittime e ai feriti del terribile sisma che ha colpito il centro-Italia. In questo momento che sto registrando il video le notizie sono ancora poche e frammentarie, c'è una situazione molto complessa, quindi rimarrò collegato, cercherò di capire come si svilupperanno le cose, anche perché è molto probabile che ci sarà un coinvolgimento della Protezione Civile nazionale, quindi è molto probabile che ci sarà un coinvolgimento anche di noi volontari, magari qui in Sicilia, vedremo come si muoveranno le cose. In base a quelle vi farò sapere se ci sarà appunto questo coinvolgimento, se succederà qualche cosa particolare. Detto questo, prima di concludere sì, oggi è andato in pubblicazione l'argomento voga che era l'ultima cosa che ti ha fatto ridere di gusto. Una mare ironia mi ha fatto pensare a questo argomento più di un mese fa, per programmarlo giusto oggi. E naturalmente non vuole essere un modo di ridere della tragedia, bensì di non pensare alla tragedia e cercare di avere un sorriso amaro, cercare di andare oltre alla tragedia, perché è inutile stare lì a fermarsi, a guardare «ok, è successo questo». L'importante spesso è alzarsi le maniche e cercare di andare avanti. Noi italiani siamo stati spesso colpiti da queste tragedie, siamo sempre riusciti ad andare avanti, ed è importante secondo me sottolineare la forza che ci spinge ad andare avanti giorno dopo giorno, e la forza della solidarietà che ci ha spinto e ci spinge sempre in questi gravi casi a dare il meglio di noi stessi. Quindi ci tenevo, diciamo, a dire tutto questo. Bene, io sono Grizzly e noi ci vediamo alla prossima su questo canale.